Amici di Raiuno, buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con le previsioni di traffico di quest'ultimo fine settimana di giugno. Le vacanze estive per molti stanno per iniziare, il weekend in arrivo sarà in gran parte contrassegnato da flussi intensi di traffico da bollino giallo. In occasione poi di quest'ultimo fine settimana include pure la festività nella capitale domani dei santi patroni Pietro e Paolo e si prevede un incremento della circolazione stradale autostradale verso le principali località balneari di villeggiature italiane di confine. Domani poi si conclude il G7 istruzione in corso a Trieste con imponenti misure di sicurezza alla viabilità nel centro e poi a Venezia ci sarà nel villaggio dei giardini napoleonici arriva a sette martiri sino a domenica un villaggio per far conoscere la biodiversità dell'agricoltura. Inizio però nel comunicarvi che ci sarà un grandissimo evento nel weekend in particolare con possibili disagi alla viabilità il Tour de France di ciclismo, la prima tappa vediamo con l'ausilio della grafica, Firenze-Rimini, seconda tappa Cesenatico-Bologna con modifica la viabilità al passaggio dei ciclisti. Poi per l'afflusso dei fan e concerti vi segnalo stasera i Simple Minds all'auditorium del Parco della Musica di Roma, Biaggio Antonaccio all'Arena di Genova, Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari e Max Pezzali allo stadio Meazza di Milano. Poi come dicevo domani ci sarà la festività dei Santi Patrono Pietro e Paolo a Roma presso la Basilica di San Paolo fuori di Mura con chiusura di parte della via Ostienze e poi a Castel Sant'Angelo la manifestazione pirotecnica e rivocazione storica della Girandola di Michelangelo. Poi sempre a Roma al Teatro dell'Opra delle Terme di Caracalla ci sarà un omaggio a Giacomo Puccini, vissi d'arte, vissi d'amore con Massimiliano Finnaiz Flori. Molti eventi sportivi questa settimana, questo fine settimana e vi segnalo anche a Messina un corteo ovvero il raduno dei bersaglieri, il corteo che partirà da Piazza Cairoli e sfilerà a lungo via Garibaldi fino a Piazza Unione Europea. Abbiamo il tempo di monitorare velocemente le immagini che ci giungono in diretta dall'area milanese, come vedete flussi intensi di traffico a Sesto San Giovanni, andiamo in acqua 14, queste sono le code di quanti si dirigono verso la riviera Romagnola proprio in direzione delle località di veleggiatura. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione e vi ricordo sempre domenica lo stop ai mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Grazie per l'attenzione, da Alessandra Canale un piacevole fine settimana, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.